Urania è sempre protagonista quando c'è da divertirsi e far conoscere il canottaggio anche al pubblico sul palco qua ai 130 anni del secolo XIX, tanti ragazzi a divertirsi Sì, anche quest'anno abbiamo colto questo invito per portare il canottaggio a una certa visibilità abbiamo colto questo invito a essere qua in pica pietra per il secolo e abbiamo portato una ventina di ragazzi, soprattutto i ragazzi più giovani per far vedere un po' questo sport che è praticato appunto di tutte le età sia maschi che femmine E al momento siete anche in testa come prima società dell'anno nel concorso Stelle nello Sport anche qua un bellissimo traguardo Sì, quest'anno veramente abbiamo cercato di fare il massimo è il novantesimo anno della fondazione della nostra società e abbiamo cercato, soprattutto io, di stimolare tutta la squadra, tutti i parenti, tutti gli amici a cercare di darci una mano a raggiungere questo traguardo che per più e più anni abbiamo cercato di inseguire e quindi niente, quest'anno con la fatica di tutti i ragazzi, di tutti quanti stiamo cercando di tenere in alto la classifica per fortuna adesso, se non sbaglio, siamo ancora in testa e speriamo di rimanerci fino alla fine della settimana In caso di Vittoria cosa avete in mente? Eh, non posso dirtelo qua alle telecamere, poi ve lo vedrete Grazie 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 Grazie